Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale AC News. In questo video vi porto un'anticipazione di Terra Mare davvero speciale, che sono sicura che vi lascerà senza parole e vi farà emozionare davvero tanto. Sappiamo tutto che uno dei momenti più pronozionanti della serie sarà certamente la morte di Yilmaz. Purtroppo l'uomo dovrà salutare per sempre la donna della sua vita, Zuleya, e i suoi due figli. Prima di continuare, se ti va, lascia un bel mi piace ed iscriviti al canale per non perderti le prossime anticipazioni di Terra Mare. Ripartiamo. Per Zuleya il ricordo di Yilmaz sarà sempre nella sua mente. Tanto che in una notte, come altre, Zuleya fa proprio un sogno in cui è presente proprio Yilmaz. E Zuleya è molto felice perché sente la sua voce. Zuleya, dopo la sua morte, ha passato uno dei momenti più brutti della sua vita. Ha provato tantissimo dolore, ma con l'aiuto di Demir è riuscita in parte a superare questo dolore. Tutto inizia a farsi un po' più semplice quando riesce a riconoscere i suoi sentimenti nei confronti di Demir. Sapendo che Yilmaz non tornerà mai più, Zuleya si è attaccata molto di più a Demir e l'uomo è finalmente riuscito a prendersi definitivamente cura di lei. Il giorno in cui Yilmaz se n'è andato per sempre, aveva fatto promettere a Demir di prendere sotto la sua ala protettiva sia Zuleya che i suoi due figli. E Demir, nonostante sia passato un po' di tempo, sta mantenendo la parola data. Durante la notte Zuleya fa un sogno e in esso è presente proprio Yilmaz. Zuleya, vedendolo, inizia a piangere e l'uomo gli si avvicina e gli dice che gli dispiace tanto, ma se ne deve andare. Zuleya e il lacrime gli ribadisce più e più volte che senza di lui non può vivere. Yilmaz prima di andare per sempre la abbraccia e gli comunica che lui sarà sempre accanto a lei. Ma ora c'è Demir che l'ama davvero e perciò lei deve fare lo stesso per lui. Zuleya al risveglio sorride perché anche se amava davvero tanto Yilmaz, ascoltò in qualche modo le sue parole e si avvicinò davvero tanto a Demir e lui fece lo stesso con lei. I due si amano per davvero e la donna ora si sente più libera. Zuleya, dopo che ha passato mesi con un grande dolore, grazie alla presenza dei figli, si riprende tanto. Dopo che Yilmaz se n'è andato, Zuleya smise completamente di innamorarsi e si avvicinò appunto a Demir. E grazie a tutto questo, alla fine Zuleya riuscì a ricominciare la sua vita da zero e vedere positivo per il suo futuro radioso. Se è stata un'anticipazione emozionante, lascia un bel mi piace, iscriviti al canale per non perdere le prossime anticipazioni di questa fantastica serie Terra Amara. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!